O Signore, manda la Tua luce e la Tua verità su di me, sia la Tua luce sia la Tua verità a guidarmi. Mi conducano verso di Te, nella Tua dimora. A Te canterò, O Signore, Dio, Dio mio. Dal Vangelo di Giovanni, capitolo 10, versetti 1-10. In quel tempo Gesù disse, in verità, in verità, io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecole dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce e gli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo, in verità, in verità, io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Sant'Agostino nel suo commento si chiede come può Gesù definirsi io sono la porta, chi entra ed esce attraverso di me trova la vita e invece tutti quelli che non passano attraverso la porta che sono io sono ladri e assassini. Infatti dice ci sono tante persone che pur senza credere in Gesù si comportano bene, non uccidono, non rubano, sono fedeli alla moglie, al marito, parlano bene, compiono opere buone. E allora? Ma dice Agostino, certo si comportano bene ma non sanno qual è il fine della loro vita. Chi invece entra e esce attraverso Gesù conosce e spera nella vita eterna fine delle azioni e dei giorni di ogni uomo. Ecco perché chi entra attraverso di lui ed esce attraverso di lui ha la speranza della vita eterna. Ma non dimentichiamo poi, dice sempre Sant'Agostino, che con l'immagine della porta e dei ladri Gesù vuole rispondere a quei farisei che avevano buttato fuori dalla sinagoga il cieco nato che Gesù aveva guarito in giorno di sabato. Quei farisei non credevano che Gesù fosse la luce venuta nel mondo. E purtroppo quando per orgoglio si crede di essere persone illuminate che conoscono la verità, tanto da giudicare anche agli altri, ma non si riconosce che Gesù è la porta attraverso la quale entrare e uscire per trovare pascolo e vita, allora, come dice Gesù ai farisei, si rimane nella tenebra, si rimane nel peccato, si diventa ladri. Non puoi far altro nei confronti degli altri che rapire e uccidere e disperdere. Per questo hanno cacciato fuori il cieco nato. Non riconoscendo Gesù lo buttano via, sono ladri e continuano a rimanere nel peccato perché non vogliono riconoscere Gesù come porta attraverso la quale entrare e uscire. Mentre il cieco nato riconosce Gesù, è lui che mi ha guarito, è lui la porta attraverso la quale sono entrato per trovare la luce. Entrato per essere guarito, aveva attraversato la porta e così era uscito dal recinto per trovare il vero pascolo, per trovare la vita piena. Per non rimanere nel peccato dunque dobbiamo avere l'umiltà. Ricordiamo, come dice sempre Agostino, che la porta che è Gesù è una porta bassa. Ci sienta soltanto se ci si abbassa, se si diventa umili. Ecco, se noi abbiamo l'umiltà di passare questa porta, passiamo attraverso Gesù. Passare attraverso Gesù significa riconoscerlo come il figlio di Dio, ascoltare la sua parola, entrare e uscire attraverso di lui. Anche in questo caso sono belle le parole di Santo Agostino che dice, entrerà ed uscirà e troverà pascolo. Si entra quando ci si raccoglie a pensare, si esce quando ci si mette a fare qualcosa. E poiché per metodo della fede Cristo abita nei nostri cuori, entrare attraverso Cristo significa pensare alla luce della fede. Uscire attraverso Cristo significa agire davanti agli uomini guidati dalla fede. Entrare e uscire, pensare alla luce della fede, agire guidati dalla fede. Un particolare di questa parabola usata da Gesù. Gesù si definisce la porta perché non ti vuol trattenere dentro l'ovile, ma vuole condurti verso il pascolo, cioè verso la libertà. Come il cieco nato è stato cacciato fuori, ma la sua cacciata, la sua uscita, ha coinciso con la vita libera, con la garanzia di trovare il vero pascolo che non trovava quando era chiuso nel recinto. Riconosciamo che Gesù è la porta per noi perché vuole che usciamo, che usciamo dalle nostre abitudini cattive, anche dei falsi maestri. Vuole che andiamo verso il pascolo che è la vita piena e libera, che lui ci garantisce. La vita cristiana è appello alla libertà. Seguire Cristo vuol dire uscire per trovare il pascolo vero. Essere discepoli di Gesù è essere liberi, è camminare nella luce che lui ci dona come un regalo, come una grazia. E questa luce che lui ci dà attraverso la sua parola diventa luce che vince la tenebra del nostro peccato, del nostro egoismo. E quindi è una luce che ci permette di camminare. Non rimaniamo dunque chiusi nel nostro orgoglio, nelle tenebre del nostro peccato. Quando anche un solo bagliore di luce che Cristo accende in noi, che fa brillare nella nostra vita, seguiamo questa luce con umiltà. Anche se dobbiamo lasciare delle nostre comodità, delle nostre abitudini, seguiamo con la luce che Gesù accende nel nostro cuore e la nostra vita diventerà piena, sempre più libera, sempre più capaci di amare. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona giornata.